A puntamento del mattino con la rassegna stampa, buongiorno cari telespettatori di Fano TV, oggi è venerdì 9 ottobre e questa è Fano TV, canale 17 con l'informazione e i giornali che abbiamo già pronti da sfogliare, da leggere, li abbiamo selezionati, tra poco vedremo le notizie, i titoli delle notizie più importanti del giorno. Ma intanto il calendario con il santo di oggi, oggi è San Giovanni Leonardi, andiamo a Lucca, questo è un personaggio, è un uomo che a un certo punto faceva il farmacista, ha deciso di abbandonare tutto e di diventare sacerdote, fondò quindi l'ordine dei chierici regolari, poi detto della madre di Dio. Gli altri santi abbiamo anche Sant'Abramo, patriarca e padre di tutti i credenti. Il sole sorgerà alle 7.18 e tramonterà questa sera alle 18.37. E come sempre uno sguardo anche al tempo grazie al bollettino della protezione civile delle Marche che per la giornata di venerdì 9, oggi mette cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, un po' di vento ancora moderato lungo la costa, domani sabato 10 ancora cielo sereno poco nuvoloso ma il peggioramento arriva domenica 11, eccolo qua, con precipitazioni diffuse localmente anche a carattere di rovescio, le temperature minime in lieve aumento e le massime in diminuzione. Avremo un po' di venti di brezza tesa o moderati dai quadranti metri giornali, ma il tempo rimarrà perturbato anche fino a metà della prossima settimana. Iniziamo allora a leggere i giornali. Cominciamo dalla fotonotizia del resto del Carlino. Vogliamo essere presenti, queste sono le richieste di questi giovani studenti che ieri hanno fatto un sit-in, ieri mattina al liceo, 273 ragazzi su 361 hanno chiesto di tornare alle elezioni tradizionali, quindi a scuola, in classe. Convertiamo le stanze dei laboratori in aula e chiedono, dicono, propongono, ma il preside Rossini non molla e dice no, ci sono troppi rischi, le cose lasciamole per il momento così come sono state definite. Finto povero invece con il doppio reddito a Vallefoglia vince 170 mila euro online, non li dichiara e percepisce il sussidio di cittadinanza ed è stato denunciato. Al via la terza edizione della Copa Faro, Bolidi sul Colle torna a sfidare i tornanti, il processo patteggia a 20 mesi Mario Pianesi, guru della macrobiotica e a Fano sulla tassa dei rifiuti, Salasso Tari sul Palazzo dei Nobili, rata da 4 mila euro. Punto da un'ape con il camion, sfonda un cancello alla rotatoria del Miralfiore e poi a Montecchio, un uomo, un giovane di 25 anni che pedinava una ragazzina minorenne, è stato arrestato, un giovane operaio che ha compiuto anche atti osceni, sono entrati in azione i carabinieri. Andiamo a vedere adesso l'apertura del Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesero, tutti in classe, non ci fermeremo. Titolo d'apertura, la protesta delle quinte del Marconi contro la didattica a distanza. Il Preside dice che non è questo però il momento, negativi i 15 leceali in isolamento fiduciario, percorso scuola, si attiverà la sperimentazione per i test rapidi. A centro pagina Acquaroli scrive al Presidente della Repubblica Mattarella ricostruzione, i gravi ritardi non sono più sopportabili. E dunque il Governatore ha scritto al Presidente della Repubblica Mattarella per evidenziare la drammatica condizione in cui ancora versa il territorio marchigiano, colpito dal sisma del 2016. Intanto al posto della Giraldi, la Regione sceglie il nuovo segretario e Mario Becchetti, lo vedete in questa fotografia, gli occhi più che altro. Ormai siamo tutti fotografati con le mascherine, quindi è così. La Roma Pescara è già una certezza, mentre la Orte Falconara sul binario è morto. Si parla di ferrovie, quindi spalla sulla prima del Corriere e ancora in breve da Pesero vince 170 mila euro ma sfrutta il reddito di cittadinanza. Atti osceni sotto casa di una ragazzina, arrestato un trentenne, poi infortuni mortali raddoppiati a causa del Covid a Fano. Questa è l'altra notizia che troverete sulle pagine interne. Biodigestore invece dimensionato sul triplo dei rifiuti prodotti. Il sito pesarese di Marche Multiservizi corrisponde all'ex PICA. Montellabate protesta, noi tenuti all'oscuro. E poi c'è lo sport. Qui un richiamo in prima pagina. La Vis perde Ravenna 2-1 con un gol in extremis. E allora, anche questa mattina, come sempre facciamo, visto che siamo in un periodo in cui il Covid sta riprendendo un po' la sua marcia, noi come Regione Marche cerchiamo in qualche modo di tenere sotto controllo con le informazioni che arrivano un po'. Cerchiamo di tenervi aggiornati sull'andamento per non fare di tutta un erba un fascio, come verrebbe da dire, anche perché uno guarda i telegiornali nazionali e sembra che sta per esplodere il mondo, che l'Italia sta per andare tutta in quarantena. In realtà poi le cose cambiano di Regione in Regione. Da Regione in Regione, allora noi cerchiamo di, con un certo criterio, anche senza farci prendere dal panico, cerchiamo di capire come stanno le cose. E allora, andiamo a vedere il Corriere Adriatico. Intanto, contagi triplicati, ma i ricoveri, che sono 39, sono al 3% del picco. In un mese i nuovi positivi sono passati da 129 a 367 a settimana. Quindi capite che, siccome i numeri non sono un'opinione, la matematica non è un'opinione, da 129 a 367 è chiaro che c'è un aumento dei positivi. Ieri altri 66. Però qui la Regione va divisa e qui si è un po' ribaltata un po' la situazione rispetto a quella che era all'inizio. Ricorderete tutti a marzo, quando la provincia di Piesurbino fu la più colpita, qualcuno mette la colpa alla palacanestro, alla Final Eight, così come al Carnevale. Insomma, l'assembramento di tante persone, molte provenienti anche dal nord. E lì, in quei periodi, la provincia di Piesurbino fu la più colpita. Qui invece adesso siamo al contrario. Mentre all'epoca, appunto a marzo, il sud delle Marche, Ascoli Piceno, registrava zero casi, qui adesso è tutto ribaltato. Abbiamo un'epidemia che continua a viaggiare a due velocità, stabile e moderata, da Piesola d'Alcona, con una media di 5 casi al giorno, quindi direi assolutamente poco. Sostenuta invece con brusca accelerazione nelle tre province più a sud, quelle più a riparo dalla prima ondata, dove preoccupa soprattutto il Piceno, con oltre 20 casi al giorno registrati. E ci sono anche dei sobbalzi degli ultimi giorni, ieri 66 casi, martedì 84. Dunque la curva dell'epidemia sembra ricordare un po' la parabola tracciata dai contagi di aprile, quando però si testava la metà dei tamponi rispetto ad oggi. Quindi è un altro dato importante. Ad aprile molti meno tamponi, la metà rispetto a quelli che vengono testati oggi. Quindi capite che insomma non è esattamente poi così come era all'epoca. Ma comunque andiamo avanti. Restano 5 pazienti affetti da Covid in terapia intensiva. Da 5 giorni non si registrano vittime dovute al coronavirus. Anche con questo sobbalzo d'autunno le marche sono comunque tra le regioni dove l'epidemia sembra più sotto controllo. Quart'ultima nel raffronto aggiornato all'altro ieri. Quindi in una classifica noi siamo al quart'ultimo posto. Andiamo a facciamo un salto un attimo sul Carlino Nazionale perché parla il virologo Massimo Clementi, il quale dice il report mortalità minima sotto i 50 anni. Quindi sotto i 50 anni è difficile che ci siano vittime a causa del Covid. È la prova che appunto il coronavirus uccide i più deboli. Il virologo Clementi dice chi è avanti con gli anni spesso soffre di altre patologie. E poi parla anche di Berlusconi. Ecco come lo abbiamo salvato. Ci sono buone notizie anche per un antivirale che è il Remdesivir che è nato per fronteggiare ebola. Si è dimostrato efficace contro il Covid perché ne blocca la provocazione, però ha due controindicazioni. Costa molto e comincia a scarseggiare anche se l'Europa, dice Clementi, si è mossa per tempo. Dunque tornando all'età avanzata di cui parlavamo poco fa, certamente l'età avanzata, dice Clementi, comporta una particolare vulnerabilità. Si porta dietro anche altre patologie spesso severe che complicano maledettamente poi il quadro clinico. E poi sulla app Immuni Massimo Cutò, il giornalista, chiede, lei professore ha scaricato questa applicazione e lui risponde, si sono registrati in pochi, così non serve. Ha ragione il Vice Ministro Sileri che dice, la gente ha paura di finire inutilmente in quarantena per due settimane e dunque bisogna accorciarla. Qualcuno sosteneva importarla a sette giorni, poi qualcun altro invece a dieci. Quattordici giorni sono un dato importante. E sapete che quando arriva la notifica sul cellulare, insomma, poi dopo lì si va in quarantena. Allora, già consegnati 1200 test rapidi, si sondano i pediatri disponibili. Primo confronto con l'area vasta 1, chiarezza su regole e validazione. Dunque anche qui si attende questo via libera per i test rapidi che servono a proposito di risultati, a proposito di quarantene che spaventano anche e soprattutto per la lunghezza. Test rapidi per velocizzare il percorso scuola. Per esempio, l'area vasta 1 spinge per attivare la sperimentazione e per la settimana entrante i pediatri dovranno fornire un primo elenco di colleghi che si rendono disponibili a procedere con i nuovi test. Ieri c'è stato questo primo confronto tra i referenti della Federazione Medici Pediatri del territorio e il territorio di igiene e salute dell'area vasta 1, Augusto Liverani. Ma gli stessi medici pediatri chiedono più chiarezza su regole e validazione dei test. Intanto tutti i 15 studenti, il gruppo dei 15 studenti di una prima del liceo scientifico di Pesero, il liceo Marconi, che sono stati a contatto in classe con un compagno risultato positivo al Covid, a fine settembre sono tutti negativi, questo almeno stando agli esiti del tampone. Intanto questa mattina invece, sempre sul Corriere Adriatico, c'è la notizia che i titolari delle agenzie di viaggio del Comune di Pesero protesteranno davanti al Comune. Questa mattina, qui c'è un refuso, c'è solo un numero, uno, poi bisognerà metterci o uno zero o un altro uno, quindi o alle 10 alle 11. Comunque in mattinata le agenzie di Pesero protesteranno e che cos'è che hanno fatto arrabbiare i titolari di queste agenzie di viaggio? In particolare il nuovo bando indetto appunto dal Comune di Pesero, che prevede l'esenzione delle tasse comunali per tre anni per le nuove attività. Dicono, riteniamo una cosa indegna, specifica a questo proposito Fabio Manno, titolare dell'Agenzia Atelier del Viaggiatore, in via Marsala, riteniamo, dicevo, una cosa indegna aiutare chi ancora deve nascere e non aiutare invece chi da anni contribuisce allo sviluppo della città e dunque paga le tasse. Non fa una piega. Mascherine, ok, ma vogliamo anche toglierle. Sul resto del Carlino Angelica Panzieri ha fatto un giro per la città e ha intervistato un po', come ha fatto anche per noi l'altra sera con i ristoratori, sulla questione mascherine e quant'altro. I pesaresi dicono almeno in casa io la evito, mentre se passeggio da solo ne faccio a meno e non c'è problema. E sulle mascherine, anche la pagina di Senigallia del resto del Carlino, titola controlli tra campus e mercato, carabinieri e polizia locale impegnati all'uscita delle scuole tra le bancarelle, chi non aveva la protezione è stato invitato ad indossarla. Attenzione, è stato invitato, quindi per il momento nessuna multa, nessuna sanzione, ma le ha richiesta di utilizzare le protezioni. Vogliamo tornare invece a scuola, in classe tutti insieme e non ci fermeremo, è la protesta, che trova spazio in due pagine del Corriere Adriatico, degli studenti delle quinte del liceo Marconi contro la didattica a distanza. Il preside interviene a sorpresa e dice se avessi 18 anni sarei con voi, però non è il momento. Certamente non solo non ha più 18 anni, ma ha delle responsabilità chiaramente molto diverse, e quindi certamente non si può mettere a repentaglio la vita, non si può rischiare, ma il preside non molla e resta con le classi al 50%. Riccardo Rossini, non posso caricare questo istituto ogni giorno di 250 ragazzi in più, chiedo a quelli di Quinta di non essere egoisti e di pensare anche agli altri. Andiamo invece adesso sulla pagina 14 del Corriere Adriatico. Perché? Perché Matteo Ricci, sindaco di Pesero, ha inviato un'istanza a nome dell'Unione dei Comuni per quanto riguarda il nuovo ospedale. Nuovo ospedale e opere accessorie. Chiederò un incontro al nuovo governatore delle Marche, Acquaroli, una forza di 140 mila abitanti dell'Unione dei Comuni, e voglio collaborare con Carloni, dice adesso appunto Matteo Ricci. Sul nuovo ospedale Marche Nord e sulle opere accessorie alla Terza Corsia, su questi due temi, ma anche su una visione generale legata all'Unione dei Comuni, il sindaco di Pesero anticipa che chiederà un incontro ad Acquaroli, non appena avrà nominato la Giunta, che dovrebbe essere ormai questione di ore. Un incontro non solo come Pesero, ma anche come Unione dei Comuni, perché stiamo lavorando sempre più insieme, dice Ricci. Territorialmente abbiamo dato un buon risultato elettorale. Rimetteremo in fila le questioni principali della città, l'ospedale da realizzare, le opere infrastrutturali da portare a termine con società autostrade. Avremo tante cose di cui parlare con Acquaroli. Appena avrà nominato la Giunta, chiederemo un incontro. Spero che possa essere un Presidente molto presente sui territori che faccia prevalere l'aspetto istituzionale. Tra l'altro ieri l'aveva invece bacchettato proprio perché aveva, tramite le colonne del Carlino, ma il Carlino poi aveva ripreso semplicemente un'intervista a Rai News 24, l'aveva bacchettato perché a Rai News 24 Acquaroli ha detto che non avrebbe scaricato, non ha scaricato e non scaricherà l'applicazione Immuni perché la ritiene poco utile. Poi a proposito di Mirco Carloni c'è anche, dice ancora Ricci, un lavoro politico da sviluppare e in questo contesto cercherò di andare d'accordo e collaborare con altri consiglieri del nostro territorio, iniziare da Mirco Carloni che credo più di altri avrà un maggior ruolo di responsabilità nella Giunta regionale. e poi ancora dice qui abbiamo eletto i due consiglieri, ma che sono nei banchi dell'opposizione, Andrea Biancani e Michaela Vitri. Andiamo sulla pagina 11 del resto del Carlino. A Tiosceni, davanti ad una ragazzina, è stato arrestato a Montecchio. La sedicenne si era accorta di essere seguita da giorni in auto ed aveva avvertito i carabinieri. L'uomo si masturbava. Controlli anticontagio invece in 29 locali sono state inflitte tre sanzioni. Per quanto riguarda invece questa notizia più nello specifico, soltanto un dettaglio, aveva questo uomo, questo ragazzo, 25 anni, è di Sasso Corvaro, celibe, operaio, e appunto è stato arrestato ieri mattina alle 7.30 dai carabinieri di Montecchio, mentre si toccava in macchina all'interno del paese. Era ai lati di una strada dove normalmente sarebbe passata una sedicenne che andava a scuola, la quale sedicenne da giorni si era accorta di essere seguita da qualcuno in auto. Per questo era andata dai carabinieri insieme ai genitori per denunciare questo pedinamento. Il coltello gli è rimasto infilato nella schiena per minuti. Si parla del riminese arrestato dopo l'aggressione con l'arma bianca, la ricostruzione della questura. Il Mondavo non riusciva a toglierselo. Le rapide ma meticolose indagini della squadra mobile hanno permesso poi di individuare l'aggressore. Mentre per quelli che hanno seguito il guru della macrobiotica Mario Pianesi, molto conosciuto anche a Pesaro, ma non solo a Pesaro, anche a Fano, è finito oggi a Ancona il maxi procedimento penale ed è finito con un patteggiamento ad un anno e otto mesi per il 76enne fondatore di un impero nel campo della macrobiotica in Italia. Un anno e due mesi invece per la moglie Loredana Volpi. Malore sul camion, un autista che è stato appunto da una Vespa sfonda un cancello, vedete le fotografie che pubblica il resto del carino questa mattina, il camion che ha abbattuto il cancello davanti al Miralfiore invadendo la pista ciclabile, sotto invece la moto a terra urtata da un'auto la cui conducente poi se n'è andata. Sono due notizie di cronache messe insieme in un unico pezzo che troverete sul giornale sul carino. Mentre sul Corriere Adriatico si parla oggi ancora del business del biodigestore, quindi il business del metano. Il biodigestore sarà tre volte più grande capacità dell'ampliamento dell'impianto tarata sui rifiuti organici prodotti nelle province di Pesero e Ancona, l'inquinamento generato dai nuovi trasporti superiore a quello evitato. e c'è tutto un articolo interessante che potrete leggere questa mattina sul Corriere Adriatico per chi ha a cuore anche l'ambiente, l'ecologia. Sulla pagina invece 11, quindi quella dopo, si parla sempre più o meno di questo argomento. L'area pesarese è l'ex PICA, ma serve un'asta pubblica. Monte Labate, il vice sindaco dice, Marche Multiservizi non ci ha mai contattato. Qual è la zona? A Pesero l'area individuata per il possibile eventuale biodigestore è quella dell'ex Industrie PICA. La conferma arriva direttamente dal sindaco Ricci ed è un caso unico perché a Monte Labate hanno scoperto di avere un'area consona al progetto, leggendolo sul giornale, e a Vallefoglia il sindaco Palmiro Ucchielli fa spallucce. Insomma, formalmente dice da Monte Labate, noi non abbiamo avuto nessuna richiesta. E vabbè, quindi anche questo è un articolo tutto da leggere. Dunque, Gostoli invece per la politica, la mia segreteria PD si chiude qui, ma non metterò la polvere sotto il tappeto, questo è il titolo. Il leader regionale affide il mandato dalla direzione, negli ultimi cinque anni non abbiamo fatto squadra. Ho ereditato, dice Gostoli, un partito diviso con alle spalle due scissioni e una coalizione inesistente, lontana dalle associazioni. Ora si deve decidere o si dà la caccia alle streghe oppure si inizia il processo di vera rigenerazione. Il Carlino rimetto il mandato, ma le colpe sono di tutti. Il segretario regionale del PD Gostoli ha convocato per lunedì prossimo la direzione del partito. serve per capire e rilanciare. Intanto sulla pagina di Fano del Carlino si parla di Tari, la tassa dei rifiuti. Tari che sta facendo perdere il sonno a non poche persone in queste ultime settimane. La Tari indigna anche la nobiltà, Palazzo Vuoto, lo sfogo del conte Gastruccio Gastracani, proprietario assieme alla sorella dello stabile dietro il comune. L'ala antica è priva di luce, gas e riscaldamento, non c'è stata nessuna verifica. Intanto, sempre sul caro Tari, Seri e Cucchiarini abbiamo stanziato un milione per l'azienda. Sindaco e Assessore assicurano agli imprenditori, gli accertamenti saranno precisi, i tributi non sono a discrezione del comune. Rettifichiamo sempre su questo argomento però dal Corriere, rettifichiamo eventuali criticità, ma l'accertamento Tari è dovuto. La replica del Sindaco e dell'Assessore al bilancio a Confindustria e agli imprenditori. Il comune precisa che il percorso è stato condiviso con tutte le associazioni di categoria. Vince al gioco oltre 170 mila euro e gode però del reddito di cittadinanza. La finanza lo ha scoperto e ha denunciato un 49 anni disoccupato che per due anni ha riscosso abusivamente l'assegno. Poi, sempre per la cronaca, ha lasciato l'ospedale il giovane accoltellato, fissato per lunedì l'interrogatorio di garanzia dell'arrestato. Furbetto è fortunatissimo, invece il titolo del Carlino denunciato aveva vinto 170 mila euro nei giochi online senza però inserirli nell'Isee, però prendeva il reddito di cittadinanza. La finanza lo ha scoperto e i circa 12 mila euro che ha percepito in due anni dovranno essere restituiti all'Inps. Forse con qualche interesse, non lo so. Lavori alla frana di Calmazzo, invece Fossombrone, avviati dopo 13 anni di attesa. L'annuncio del primo cittadino dice l'opera è finanziata dalla regione per 320 mila euro. Cunette fino a 40 centimetri sulla strada per i Cappuccini, sempre Fossombrone, la consigliera Cipriani documenta i lavori malfatti. Sotto invece, no, andiamo sull'altra pagina, Urbino. Urbino è riconoscente a Paolo Cigliola. Paolo Cigliola è giudice che è deceduto qualche tempo fa, magistrato, magistrato alla quale è stata intitolata una via. Soprattutto è intitolata la via a questo magistrato che con un'ordinanza salvò il tribunale dalla chiusura. Ora è cittadino emerito post mortem. Amava e conosceva la città. La sua porta era sempre aperta per affrontare i problemi. Qui vedete la fotografia dove la moglie, Bernadette Formica, scopre questa targa. Qui a fianco il sindaco di Urbino Gambini. Sotto invece la cerimonia di fronte al monumento a Raffaello Sanzio. Restiamo sempre ad Urbino. Il prof Vincenzo Fano al vertice della Società di Logica e Filosofia. La presidenza torna ad Urbino dopo 30 anni. Organizzeremo un grande convegno. E poi guardate questa fotografia con il titolo Parcheggio e il camper e lo ritrova vandalizzato. Questo camperista ha parcheggiato il suo mezzo nel parcheggio. Credo che sia il parcheggio. È un parcheggio, come vedete, coperto. Adesso non ho fatto in tempo a leggere dove. Ma comunque, guardate le fotografie, basta per capire un attimo come sono andate le cose. Guardate, gliel'hanno completamente vandalizzato con le bombolette spray. Credo però, per esperienza, che se viene ripulito subito, si riesce a salvare. Senza doverlo... Forse aspetta troppo. Non lo so. Comunque, se si fa subito, forse si salva. Torna la Piobbico a Pecchio del sabato. Ripristinata dopo anni la corsa per studenti su pressing del consigliere regionale Giacomo Rossi. Adria Bus è disponibile al dialogo. Parlato con autisti e studenti. Ci sono criticità da migliorare. Controllate 20 corse. Poi c'è il problema degli orari. I dirigenti scolastici devono trovare un accordo per far defluire il traffico. Sotto, invece, domenica festa ad Apecchio per il venticinquesimo di ordinazione del sacerdotale di Don Sauro Profiri. Nato a Frontone nel 1968 da una famiglia di agricoltori. Dopo aver frequentato la scuola dell'obbligo a Frontone, si è iscritto poi alla scuola professionale a Cario di Cagli. E poi la qualifica professionale di meccanico agrario. E poi il percorso nel seminario Gesù Operaio di Fano. Durante l'estate, per quattro anni consecutivi, insomma, si è recato in Svizzera. C'è tutta la storia che Medevo Pisciolini racconta. E domenica, comunque, alle 18, nella sala polivalente di Apecchio, ci sarà questa messa solenne con il Vescovo della Dioce di Difano, Trasarti. Restando in ambito preti e religiosi, anche se qui la fotografia potrebbe ingannare, ma non è così, non lasciamoci ingannare dall'apparenza. Questo signore che vedete in questa fotografia, altro non è che un prete, eccolo qua, vestito da prete, però è anche non solo un cacciatore, ma è anche uno che si intende anche di tartufi. E lui dice che i tartufi, Antonio Mandrelli, i tartufi stanno scomparendo. Parola di don. Parroco ai confini tra Marche e Umbria, non solo è prete cacciatore, ma anche abile cercatore dei migliori doni della terra. Siamo a Castelfranco, crocevia tra la provincia di Piesurbino e Perugia, e Don Antonio Mandrelli, 74 anni, conosciuto come il prete dei fucili, deve rinunciare alla cerca del tartufo. E qui spiega anche il perché in questa intervista. Un anno fa i ladri hanno rubato la mia beretta, dice, sulla pistola rubata, per riavere i miei fucili sequestrati ho dovuto mettere l'avvocato. E qui alcune fotografie del Don, anche con il suo cane. A Senigallia, velocemente, oggi prima giunta il 16 in consiglio, Olivetti, il nuovo sindaco al posto di Mangialardi, accelera, subito operativi. Il sindaco ha incontrato il COC sul Covid. Sandro Barchiesi, candidato con Campanile, consulente per la Polizia Municipale. Mentre lo sport, Offidani, ho visto il Fano vicino alla vittoria. Il presidente parla sul pareggio di Carpi, mentre è andata male per quanto riguarda la Vis. Ha perso 2-1 a Ravenna. Vis al tappeto, Galderisi ora in discussione. Sempre dominati da un Ravenna padrone del campo. Gennari trova il pareggio, ma poi spreca tutto e si sbaglia tanto. Sul parquet della Vuela ancora al palo. Il rompicapo è Delfino. L'esterno italo-argentino resta a forte rischio per la trasferta di domenica. L'infortunio è da valutare. La difesa va migliorata contro Trento. Si giocherà sabato 17. Ed è tutto per la nostra rassegna stampa. Grazie per la vostra cortesa attenzione. Vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio a notizie. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.